Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato oggi il nuovo DPCM che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021. Confermato fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l'eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. Resta anche la divisione delle regioni italiane in zone, caratterizzate da fasce di colore differenti. Nelle zone bianche si prevede la cessazione e le misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anticontaggio generali, come per esempio l'obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali e i protocolli di settore. Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti. Si istituisce un tavolo permanente presso il Ministero della Salute con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato Tecnico Scientifico e dell'Istituto Superiore di Sanità, per monitorare gli effetti dell'allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori. Dal 6 marzo si prevede nelle zone rosse la sospensione dell'attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Invece, nelle zone arancioni e gialle, i presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell'attività scolastica, nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti, nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100.000 abitanti nell'arco ai 7 giorni o, infine, nel caso di un'eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico. Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l'apertura anche il sabato e nei giorni festivi. Si prevede, a partire alla stessa data, anche la possibilità di riaprire teatri e cinema, composti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso per ogni sala. Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici. In tutte le zone è eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto. Nelle zone rosse saranno chiusi servizi alla persona, come parrucchieri, barbieri e centri estetici. Si amplia il novero dei paesi interessati dalla sperimentazione dei voli cosiddetti covid-tested. A chi è stato in Brasile, nei 14 giorni precedenti, è consentito l'ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori. È istituito un tavolo di lavoro di confronto presso il Ministero della Salute, con componenti in rappresentanza dell'Istituto Superiore di Sanità delle Regioni e delle Provincie Autonome, del Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie e del Comitato Tecnico Scientifico, con il compito di procedere all'eventuale revisione e aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti.